all'agricoltura un pezzo fondamentale della nostra economia, ma quel pezzo fondamentale della nostra economia funziona se siamo capaci di mettere insieme tradizione di una cultura antica di secoli e innovazione, modernità e questo lo possono fare solo le giovani generazioni. È la ragione per la quale noi su questo moltissimo abbiamo investito e investiamo anche con una serie di provvedimenti che riguardano la decontribuzione per chi assume in agricoltura giovani sotto i 36 anni, per le attività, le imprese prevalentemente composte da giovani che nascono per inserire nella politica comune, agricola comune, un capitolo specificamente dedicato ai giovani, cioè per fare tutto quello che serve alla continuità di un settore che è fondamentale. Io voglio fare i complimenti a questi ragazzi perché in un mondo nel quale è stato detto che se avessi scelto il liceo avresti avuto sicuramente un grande sbocco nella tua esistenza e se invece magari avessi scelto un istituto tecnico forse le tue opportunità sarebbero state minori, beh forse dimentichiamo non solo che in questi istituti, per esempio nell'agrario, c'è una capacità di sbocco nel mondo professionale molto più alta di quello che danno spesso altri percorsi di formazione, ma perché per come la vedo io questo è il liceo, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura di quello che questi ragazzi sono in grado di studiare, tramandare e portare avanti. Buongiorno, allora così il Presidente del Consiglio qualche giorno fa al Vinitaly quando ha lanciato il cosiddetto liceo del Made in Italy che poi non è altro che l'istituto agrario che già abbiamo e che comunque è un'eccellenza anche quella nel nostro panorama dell'istruzione. Partiamo da qui per cercare di sviluppare un discorso che appunto riguarda molto il lavoro e il lavoro del futuro dei giovani, i giovani che poi lo vedremo più avanti. In altri paesi in questo momento non sono paesi lontanissimi da noi ma sono la Francia per l'appunto e anche in parte la Germania, stanno cercando di fare la differenza con delle grandi proteste. In Francia sapete quello che sta accadendo con la riforma delle pensioni, anche ieri ci sono stati anche degli scontri ma quello diciamo riguarda poi il filone delle infiltrazioni che purtroppo ci sono quasi sempre ma di fatto i giovani scendono in piazza per protestare e per cercare in qualche modo di riprendersi il loro futuro. Cosa che ancora non accade qui, chissà se accadrà mai, ma comunque di giovani si parla sempre troppo poco e così come di donne. Tra l'altro ieri ne parlavamo, è uscito il rapporto Svimez che dà dei dati sull'abbandono scolastico davvero impressionanti perché poi insomma tutto parte da lì. Allora buongiorno Renata Polverini, ex parlamentare ma ancora molto vicina possiamo dirlo a Forza Italia che si è occupata anche in passato di sindacato, insomma è un volto che conoscete. Buongiorno Elisa Simoni anche lei ex parlamentare nella sua storia, oggi manager? Oggi sì. Oggi manager e quindi una donna che fa impresa. Buongiorno a Virginia Gullotta, altra giovane imprenditrice, esattamente di quale settore? Comunicazione. In collegamento buongiorno alla direttrice della nazione e del quotidiano nazionale insomma di tutti i suoi fratelli. Buongiorno Agnese Pini. Buongiorno ad Andrea Ruggeri, anche lui giornalista, ex parlamentare di Forza Italia e imprenditore, quindi è un settore che conosce bene. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. E buongiorno a Francesco Specchia di Libero. Buongiorno Francesco. Allora, intanto Polverini, un sacco di polemiche su questo liceo del Made in Italy che ho detto già c'è di fatto, è l'istituto agrario. Come mai tutte queste polemiche su una cosa che di fatto già abbiamo? Perché gli abbiamo cambiato nome? Secondo me polemiche, se mi posso permettere, stupide, nel senso che questo è un paese che ricomincia ad investire sugli istituti tecnici che sono fondamentali per il nostro tessuto produttivo. Io da presidente di regione sono stata altrettanto sensibile alla questione degli istituti tecnici. Per esempio feci una cosa della quale vado molto orgogliosa. Decisi di invertire un po' quello che era il trend di cultura dentro la regione. I presidenti di regione prima di me portavano per esempio ad Auschwitz nei campi di concentramento, quindi per vivere la storia, soltanto ragazzi dei licei. Io decisi invece di portare ragazzi dell'istituto tecnico e le posso dire che qualche giorno fa sono salita in un taxi e questo ragazzo mi ringraziava perché mi ha fatto vedere le foto, era con me in quel campo di concentramento. Lo dico perché a un certo punto invece si è pensato che la scuola dovesse in qualche modo selezionare, quindi alcuni erano privilegiati per andare a liceo. Io ricordo a un certo punto della scuola di mia figlia fecero la proposta di portare solamente in quei viaggi solamente i ragazzi più bravi. Esatto e questo non va bene perché poi si continua ad investire e soprattutto quando si va negli istituti tecnici, oggi purtroppo per quello che è un po' la convinzione generale del paese culturale, si trovano ragazzi che molto spesso vengono da famiglie meno abbienti, quindi non sono meno bravi, hanno meno opportunità. Invece io penso che le istituzioni devono dargli e mi lasci anche dire che io sono figlia di un fabbro e poi ho avuto un secondo papà perché mio padre è morto che era un agronomo, uno dei migliori e dei più bravi quando l'ho conosciuto io, che mi ha sempre insegnato quello che bisognava fare rispetto all'agricoltura e soprattutto mi ha fatto guardare all'agricoltura come ad un mondo straordinario in un paese straordinario come il nostro, che non è grandissimo rispetto ormai a tanti altri paesi che si avvicinano a questo mondo ma che ha, come dire, qualcosa che negli altri paesi non c'è e quindi da questo punto di vista io condivido pienamente quello che ha fatto la Presidente Meloni e soprattutto condivido l'idea appunto di spazzare un po' il campo da questa selettività che noi abbiamo imposto alle famiglie italiane negli ultimi anni e magari attraverso questo possiamo ridare anche, qui ci sono delle imprenditrici, delle persone più formate che possano, come dire, occuparsi appunto del nostro tessuto produttivo. Simone, cos'è un retaggio culturale quello di pensare che solamente il liceo nella sua accezione classica, per l'appunto linguistico, classico, scientifico, può essere uno sbocco diciamo così degno di essere perseguito? No, ci sono secondo me stati due fenomeni. Il primo fenomeno, diciamo un fenomeno anche positivo, Polverini raccontava la sua storia, io vengo da una famiglia di operai di provincia, mio padre mi ha sempre detto che il lavoro è dignità e tutti i lavori hanno la pari dignità ma aveva voglia di rivalza, io avevo passione per studiare e quindi mi disse se vuoi fare il liceo classico noi siamo fieri. Quindi da un lato c'è un aspetto positivo di un'Italia che cresce e di lavoratori e di lavoratrici che volevano per i loro figli qualcosa di meglio e quindi la spinta. Dall'altro invece c'è una totale delegittimazione di un certo tipo di lavoro manuale, sia perché nella società non era più qualificante anche dal punto di vista del ruolo della PIL e sia perché però anche il lavoro si era squalificato con salari più bassi, con più precariato e quindi uno tentava di trovare nuove soluzioni. Rispetto a quanto detto dalla Presidente Meloni io penso due cose. Gli istituti tecnici sono fondamentali. Toscana, amministrazione di diverso tipo, da quella della Polverini, io facevo l'assessore al lavoro, io ho spinto tantissimo sulla formazione e sugli istituti professionali e anche sui corsi di formazione fuori dagli istituti professionali perché noi avevamo un tessuto produttivo e abbiamo della moda e mancavano professori quali tagliatori, pagati tra l'altro in maniera veramente eccezionale. E quindi ho cercato di spingere in quella fase anche a rendere attrattivo culturalmente appunto quei lavori. Dall'altro però non bisogna dimenticare che i dati di questi giorni che danno l'occupazione comunque in crescita dicono che non trovano né quella mano d'opera magari che viene considerata un po' più umile ma non si trova più neanche i profili alti. Quindi noi abbiamo due compiti, non dire che il vero liceo è uno, qualificare tutti i percorsi formativi e impedire che quegli altri però se ne vadano da questo paese perché altrimenti noi sappiamo, malgrado che tutti i lavori abbiano la stessa degnità, io parlo di mio padre e di mia madre quindi non potrei dire altrimenti, noi sappiamo che con un lavoro comunque solo di basso profilo il paese si impoverisce per ovvie ragioni. Mi pare che ieri comunque dal Consiglio dei Ministri è uscito un messaggio anche che va nella direzione comunque di aumentare gli stipendi dei nostri giovani per provare a trattenerli, magari non è il massimo però c'è un inizio. Posso chiedere Andrea Ruggeri come si fa a provare a trattenerli però aggiungo una riflessione, provo, è giusto provare a trattenerli però forse è anche fisiologico che chi vuole fare un certo tipo di mestiere invece vada, poi ritorni e poi rivada ancora, siamo in un altro mondo. Fare un'esperienza all'estero allarga la mente di solito e arricchisce chi lo fa quindi non me la sento di dire che per definizione se uno va via però magari se torna è meglio faccia male. Avete ascoltato Renata Bolverini che saluto a cui mando un bacio e Elisa Simoni che sono due amministratori locali importanti. Entrambi gli hanno detto che cosa? Che hanno cercato di sopprire delle lacune del sistema di distruzione italiano. Io oggi come oggi hanno cercato di migliorarlo, di metterci una pezza di lusso diciamo così. Io quello che vedo oggi Gaia è una cosa molto molto semplice. L'errore della sinistra di alcuni anni fa fu fare la riforma 3 più 2 dell'università e oggi produce laureati che non sono pronti concretamente a lavorare. Io sono dell'idea che al di là delle polemiche di questi giorni di cui mi interessa veramente poco come delle polemiche in generale perché insomma penalizzano il fare, il fatturato della politica perché privilegiano soltanto il dibattito sulla ghiacchiera che questo paese sia giunto allora di pensare a una vera riforma di distruzione che coinvolga anche il liceo. Secondo me i ragazzi escono troppo tardi dal liceo, troppo tardi dall'università e impreparati concretamente a lavorare. Faccio un esempio che conosco diciamo direttamente, quello degli Stati Uniti d'America dove il liceo dura un anno in meno e l'università due anni in meno. Siccome il mio sogno da ragazzo era andare a fare l'avvocato penalista negli Stati Uniti e battagliare con l'accusa davanti a una giuria... Diciamo che ne riconosco il profilo. Era il mio grandissimo sogno di ragazzo, veramente purtroppo non realizzabile, però comunque io ero ammirato dal sistema universitario americano per quanto riguardava legge perché ti facevano fare due anni di teoria molto intensa e un anno di pratica pro bono per chi non aveva i soldi per pagarsi l'avvocato supervisto dal tuo professore. I ragazzi escono lì, sono subito pronti a portare un'udita marginale lo studio legale, adesso parliamo di giurisprudenza, insomma potremmo parlare di moltissime altre professioni e sono subito molto pagati. Come fai ad alzare gli stipendi dei giovani? Beh ma è semplice, però purtroppo doloroso e impegnativo per chi fa politica. Tagli la spesa pubblica che negli ultimi dieci anni era doppiata da 500 o oltre i mille miliardi e trovi le risorse per fare un abbattimento serio del cuneo fiscale e quindi delle tasse sul lavoro. Il resto purtroppo, sai Gaia, sono grandi discorsi che però è difficile rascinare a terra. I ragazzi italiani in Italia non vedono prospettiva, per questo se ne vanno. Tutto qui. È vero. Virginia, qual è, diciamo, da che punto di vista la vedete poi voi? Come azienda. Sì, e anche come, sì, a quante persone dai lavori, posso dire? Certo, più di 30. Più di 30, allora. Ma la mia, mi piacerebbe definirla, diciamo, una storia di straordinaria normalità, mettiamola così. Straordinaria perché purtroppo i numeri, diciamo, dell'imprenditoria femminile, per quanto, insomma, le misure siano tante, riportano ancora un 22% circa di donne alla guida di aziende in Italia. Quindi è straordinaria da questo punto di vista. Normalità perché se non normalizziamo quello che significa fare impresa, investire, rischiare, assumere persone, fare un percorso poi di formazione che è molto sul campo, evidentemente diventerà sempre, diciamo, una mosca, una mosca bianca. Quindi noi troviamo molto spesso, assumiamo anche ragazzi molto giovani. L'età media in azienda da noi è circa 30 anni, ma ci sono ragazzi molto più giovani, chiaramente, alziamo probabilmente noi e qualcun altro l'età media. Il 60% sono donne e sono ragazze, ragazzi che hanno fatto percorsi professionali, hanno studiato. Classici? Classici, ma non solo. Tradizionali, diciamo così. Tradizionali, questo sicuramente sì. Professioni anche molto tecniche, lavorando nell'ambito chiaramente anche della comunicazione. Probabilmente hanno imparato tanto, soprattutto lavorando in azienda, perché la parte della formazione chiaramente magari apprende un metodo, magari probabilmente inizia ad avere gli strumenti, ma c'è un pezzettino che penso poi noi come aziende riusciamo a rendere più efficace, perché poi è nel fare effettivamente, nello sperimentare, anche nel fallire chiaramente, perché magari poi ti ritrovi davanti delle prove che nel corso dei tuoi studi non avevi mai né immaginato né potuto sperimentare e poi in azienda effettivamente hai modo di vedere come poterle risolvere, perché poi alla fine quello che cerchiamo di fare è risolvere problemi, piccoli o grandi che siano, ma è risolvere problemi. Vanno o restano? O meglio, vogliono andare o vogliono restare? Devo dire che noi da questo punto di vista abbiamo registrato un trend che è cambiato nel tempo. C'è stato un momento, parlo di circa 6-7 anni fa, in cui la tendenza a voler andare all'estero era molto molto forte, che per carità per noi è anche un bene, perché poi andare all'estero, come dicevano prima, significa fare anche delle esperienze, tornare anche con un bagaglio culturale infinito che poi può portare davvero valore all'interno dell'azienda. Noi all'inizio, quando abbiamo assunto le prime persone, molti erano anche stranieri, venivano da altri paesi del mondo perché volevano studiare, volevano lavorare qui in Italia e quindi siamo stati un hub che ha abilitato tanti colleghi che effettivamente venivano da altre parti del mondo. Adesso la maggior parte, in verità, dei colleghi sono italiani, vogliono rimanere, vogliono investire nel nostro paese. Quindi devo dire un trend che è cambiato un po' nel tempo. Direttrice Pini, invece qualche giorno fa noi ci siamo fermati al sovranismo del titolo, mettiamolo così. È sempre molto complicato poi riuscire a parlare di alcuni temi. Io ci ho provato l'altra mattina, ma erano ospiti attualmente politici e quindi dopo tre minuti il tema è stato preso e tirato da una parte e dall'altra e io ho detto addio al discorso. Oggi invece vedo che sicuramente mi riesce un po' meglio, perché poi ci riempiamo tutti la bocca di giovani e di donne che tra l'altro sono quelle due fette che invece per esempio la nuova segretaria del Partito Democratico, Elish Line, è riuscita a trascinare, a rimotivare e a portare al voto nelle ultime elezioni. Però poi per il resto si fatica un po' molto. Meloni ha tentato di fare un discorso, ci siamo fermati e accapigliati sul Made in Italy. Ma sai, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti. Quindi è chiaro che tra l'altro un governo come questo, che sulle parole punta tantissimo, quindi anche su come si vestono le notizie, poi si innescano polemiche che spesso sono davvero fini a loro stesse sulle parole. Dicevo, questo è un governo che fin dall'inizio, sull'utilizzo o non l'utilizzo di alcune parole, l'ultima polemica è stata quella sull'utilizzare termini italiani piuttosto che stranieri, ha fatto una parte e continua a fare una parte della sua proposta, costruire la sua proposta elettorale all'opinione pubblica. Poi appunto innesca questo cortocircuito culturale, direi, sul fatto che appunto sembra che il tema principale, il tema importante, le questioni urgenti siano chiamare un liceo del Made in Italy o meno, o chiamare l'istituto tecnico, piuttosto che utilizzare parole italiane o non utilizzare. Il pericolo di tutto questo, che poi invece le questioni profonde e davvero complesse del nostro Paese, che sono quelli di cui avete dibattuto un istante fa in studio, restino un po' sullo sfondo, proprio perché è più divertente accapigliarsi su quali parole usare, quali sono giuste, quali sono sbagliate e dove vogliamo mettere l'accento rispetto a un atteggiamento che però diventa un po' propagandistico e si svuota un po' di sostanza, proprio perché i problemi sono tantissimi, dalle fughe dei cervelli al rivalutare, ed è una cosa sacrosante e giusta l'importanza degli istituti tecnici che hanno fondato la classe dirigente del nostro Paese ormai svariata decine di anni fa, prima di entrare in un tunnel di crisi di appeal. In parte è anche comprensibile, di nuovo se non ci dimentichiamo la nostra storia e un po' lo dicevate in studio, di andare al liceo ancora ai tempi miei era un'idea di riscatto sociale, veniva visto dai genitori, dalle famiglie, come modo per dire il mio figliolo può andare al liceo, perché io ho fatto solo l'avviamento magari negli anni 50, ho fatto solo l'avviamento perché non mi viene consentito di poter fare qualcosa di diverso, ricordiamoci da dove arriviamo. Tutto questo ha disperso delle possibilità però dei patrimoni di operatività che vanno recuperati. Poi l'altra domanda profonda che dobbiamo porci è se la carenza per esempio di figure professionali oggi in molti settori sia dovuta per esempio soltanto al fatto che i tecnici sono in crisi. Ecco, non credo. Il mondo del lavoro oggi manca di appeal in senso generale, di nuovo pensare che i più giovani vogliono sacrificarsi meno perché sono più svogliati delle generazioni passate, rischia di diventare un po' populista, un po' semplicistico come atteggiamento, come pensiero. I giovani fanno più malvolentieri alcuni sacrifici legati al mondo del lavoro perché il mondo del lavoro ha smesso da tempo di essere percepito dai ragazzi come un modo che consente loro di passare dei gradini nella scala sociale, quindi di avere poi delle certezze economiche, sociali e anche familiari inevitabilmente in più. Quello che è stato per i nostri nonni, per i nostri editori, quindi il lavoro come una scala che ti consente di salire dei gradini, oggi ha smesso di avere questo tipo di riconoscibilità e di certezza. È più difficile fare sacrifici quando la prospettiva non è migliorativa ma è possibilmente identica al presente se non peggiorativa e questo è tema su cui si dovrebbe dibattere molto di più. Francesco, cosa vorresti che facesse tuo figlio come scuola? Adesso è piccolo ancora, no? Ma sai, poi si abbandona sempre alla retorica genitoriale che quella faccia quello che vuole pur che lo faccia bene, in realtà no. Questa è la risposta che diamo di facciata dentro di te. Questa è la risposta che diamo tutti quando si dice vuoi che tuo figlio faccia giornalista ma no, per carità, l'unica cosa che non dovrebbe fare quando in realtà intimamente pensi che il tuo verbo possa essere tramandato di generazione e generazione, quindi attraverso i tuoi figli che vorresti facessero forzatamente il tuo lavoro, poi tu ne sai qualcosa su questo. Sì, però non ho questo livello di autostima, quindi non l'ho mai pensato, giuro, e fortunatamente fanno altro. No, no, però questo è vero, questa è la vulgata. Io credo che i miei figli che ho io ancora piccoli saranno costretti a migrare e li lascerò fare, per poi voler torrare necessariamente con uno standing completamente diverso per poter poi riattivare tutto il nostro sistema produttivo, perché il problema grosso è che ci troviamo in una condizione in cui per la prima volta le generazioni attuali non solo hanno l'ascensore sociale bloccato, va verso il basso e ci troviamo nella condizione che i padri sono costretti a mantenere i figli, per cui questa situazione qui è ovvio che aumenta conseguenzialmente, si crea quella che si dice la trappola dei talenti, per cui molti territori hanno un calo improvviso di produttività e c'è una stagnazione delle lauree, dei titoli di studio, per cui si blocca tutto e quindi non si va né avanti né indietro. E poi quelli invece che riescono ad andare avanti vanno fuori, cioè su centomila, avete fatto il conto prima, centomila cervelli che vanno all'estero ogni anno, ce ne sono un 50%, 60% sono quasi esclusivamente giovani, quindi tendenzialmente ti viene a scontrare con una realtà che poi è molto anche farraginosa dal punto di vista industriale, ti faccio un esempio, io faccio sempre l'esempio classico di Giovanni Delisi, Giovanni Delisi è questo ragazzo che aveva 30 anni, adesso ne avrà 36-37, il quale si ha inventato una start-up che era Green Rail, è una start-up che consentiva di mettere, ne avete sentito parlare, fu una start-up principe, i pneumatici sulle rotaie dei treni e non solo quindi andava a incentivare il consumo dei pneumatici, quindi gli smaltiva, ma però creava questa situazione col passaggio dei treni dell'energia, quindi di fatto tutti i treni che passavano ogni giorno si illuminavano le stazioni. Beh, sto ragazzo andò da Trenitalia e gli dice guardate io ho questa cosa qui e Trenitalia comincia a dire no perché abbiamo dei problemi, no ma si rivolga qui, non parli col politico, è finito che ha venduto il brevetto in America 75 milioni di dollari, e quindi è rimasto lì, questo è il buon Giovanni ovviamente, però è come lui ce ne sono decine, centinaia, io mi sono occupato per un po' avendo diretto una televisione che si occupava di queste tematiche, era pop economy, venevamo centinaia di ragazzi che ogni giorno erano costretti ad andare all'estero e a far sbocciare lì la loro creatività, credo che l'idea della Meloni sia quella di farli rientrare, si parlava prima, credo che l'abbia detto da Polverini, di questa nuova norma che prevederebbe il 30% in più dello stipendio di un ricercatore, che è già tanto vi assicuro, per quelli che riescono a pubblicare e a rendere produttive le loro tesi, che va benissimo, però bisognerebbe fare anche molto di più, l'idea del Made in Italy, dell'etimologia del Made in Italy, liceo del Made in Italy è abbastanza incommiabile, anche se può sembrare una roba tipo autarchia a tutti i costi, qualcuno ha evocato fascisti su Marte, ma non è esattamente così, quella roba lì è un tentativo di mettere un faro, una luce su un problema, che è quello appunto dei giovani e dell'approccio con il mondo lavorativo che deve essere diverso e soprattutto io lo dico da persona che ha fatto il classico, probabilmente forse non lo rifarei alla luce di tutte le scuole che ci sono adesso. Che ci sono oggi, tra l'altro non conosciamo neanche noi genitori, perché... Che non conosciamo, perché mi trovo a una scuola nuova ogni giorno, quindi anche per far lasciare i miei figli. Io ancora sto cercando di capire cosa fa la mia seconda figlia, però... Esatto, è un ventaglio di possibilità che noi non avevamo ai nostri tempi, capisci? Quindi, secondo me, questa è la strada da seguire, il solco è questo. Però, Andrea Ruggeri, tutto questo, quanto aumenta il divario e le diseguaglianze? Perché noi qui stiamo parlando, e ha detto Francesco, probabilmente mio figlio andrà, tornerà, ma comunque andrà a studiare all'estero, però non tutti si possono permettere di far studiare i figli all'estero. Sì, questo è vero, anche se esistono numerosissimi e poco raccontati esempi di ragazzi che partono e si mantengono da soli all'estero lavorando, oltre che a studiare, quindi sono sempre un grande appassionato di queste storie, anche perché ne sono stato una piccola parte della mia vita anche interprete, se io parlo quasi perfettamente dell'americano è perché a 18 anni andai a fare il cameriere N mesi a New York, poi doveva cominciare l'università in Italia, mio zio venne a riprendermi per i capelli, che infatti come vedete sono rimasti lì e mi riportò in Italia, però detto ciò, no, io credo che il sistema di istruzione insomma l'ha pensato un po' più complessivamente e connesso al mondo del lavoro, Francesco racconta, Francesco Specchia racconta una realtà che per me è appassionantissima, però segnalo un dato concreto perché insomma ci possiamo riflettere, le start up di cui parla lui e che all'estero quelle tecnologiche faranno comunque la storia dei prossimi anni, pensiamo anche solo quella sull'intelligenza artificiale che dominerà, prendono per esempio laureati in fisica, alla Bicocca, a Milano quest'anno ce ne sono 10 discritti al corso di studi di fisica, allora che cosa significa questo? Che l'orientamento italiano non funziona ma anche che la politica non mette giù un piano di studi adeguato a quelli che saranno i mestieri che ci saranno tra dieci anni e che oggi si possono solo vagamente intravedere ma non vedere nel dettaglio, quindi tu devi preparare secondo me i ragazzi a uscire prima, più preparati, devi agevolare ovviamente la connessione col mondo del lavoro, devi fare ponti d'oro alle imprese, questo significa signori, andiamo anche qui sulla ciccia veramente volgare, meno tasse, molta meno burocrazia, giustizia più veloce perché è impensabile che noi abbiamo un tempo medio per una lida tributaria di 11 anni, la Germania 3, questo significa che i fondi di investimento non vengono a mettere soldi in Italia ma vanno a metterli in Germania, non si creano opportunità di lavoro per quelli che dicevi tu Gaia, cioè le persone che hanno meno, quindi più concorrenza, meno regole, più chiare e meno lacci favoriscono fatalmente chi ha di meno, chi parte più in basso e poi più concorrenza perché obiettivamente anche quando sento da questo governo certe volte avere un po' il braccino corto su certe categorie su cui non vuole liberalizzare, dico no ragazzi la direzione è sbagliata, l'Italia può diventare competitiva veramente con tre tratti di penna, però quei tre tratti di penna li devi fare, devi avere coraggio, devi avere un po' di visione, devi sapere come va il mondo altrove e insomma intorno a noi cresce, crescono tante realtà, attenzione. Allora dopo la pubblicità andiamo a vedere come in Francia i ragazzi invece stanno provando a fare la differenza, vediamo dopo la pubblicità. la pubblicità andiamo a vedere come in Francia i ragazzi i ragazzi di penna, non vi va vivare 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 allora danse c'è la line danse c'è la line danse c'è la line anzi sa vie no time no time no time non ne guarderai pas guarderai qui on si on se pare c'est aussi pour vous ne guarderai pas Allora, questa giovane ragazza Matilde è diventata un po' il simbolo della protesta in Francia dei ragazzi, che ovviamente sta spopolando anche sui social. Sapete che la Francia sta vivendo giorni di proteste per la riforma della pensione in questo quadro si sono inseriti anche molti, tantissimi giovani che si battono non solo per le pensioni ma hanno introdotto anche altri temi, il precariato, le difficoltà lavorative e il clima. Insomma, è una spinta che in Francia è molto sentita, Virginia, è molto forte. Direttrice Pini, qui da noi non si vede questo tipo di interesse, di spinta. Da questo punto di vista sembrano i protagonisti, quelli che dovrebbero essere i protagonisti sembrano un po' rassegnati. Sì, c'è una grande rassegnazione. In parte sono convinta che sia, anche per quello che dicevo prima, c'è davvero una mancanza endemica di fiducia e di aspettativa nei confronti delle generazioni che oggi hanno 6-18-20 anni. Cioè in maniera molto forte, non è cominciata adesso, è stata una lenta erosione, ma ora è davvero importante ed è lì che va ricercata quella che, appunto, in queste cause che va ricercata quella che viene un po' con faciloneria, chiamata disinteresse, ignavia o svoglietezza o non voglia, appunto, di queste generazioni. C'è la sensazione molto forte, molto radicata, che il mondo del lavoro non possa diventare un volano per avere qualcosa di più, qualcosa di più rispetto ai genitori, rispetto a chi c'è stato prima di loro. E in fondo proprio quella, non è che le condizioni di lavoro 30 anni fa fossero migliori di oggi, perché anche qui se no facciamo un po' delle semplificazioni, ma c'era profondamente l'idea che attraverso il mondo della scuola e poi del lavoro ci sarebbe stato il riscatto sociale rispetto a chi c'era prima di noi. Oggi questa sensazione non c'è più. L'aspettativa è quella di potenzialmente andare a stare peggio di quanto non stanno oggi i genitori di quei ragazzi. E quindi non avere questo tipo di speranza, di visione nel futuro, è chiaro che annichilisce anche i desideri, gli istinti, le energie positive da mettere in circolo, anche con le proteste, perché è anche attraverso le proteste di piazza, anche sanguigne come quelle che abbiamo visto in Francia, che si misura la vitalità di una generazione. Questa vitalità non c'è perché c'è una profonda convinzione che non si andrà a stare meglio di chi ci ha preceduto. E' un paese che pensa che non potrà stare meglio di chi ci ha preceduto, è un paese con poche chance. Dove appunto si pensa fondamentalmente solamente ad andare via. Però ci sono anche, Lisa Simoni, degli slogan un po' passati, nel senso che tassiamo i ricchi, il capitalismo, c'è un po' tutto in questa forma di protesta. C'è il giovane che però ripete slogan che abbiamo sentito nel passato. Ma probabilmente c'è una ragione reale, cioè il giovane si accorge, come diceva Pini, che è tornato indietro, che siamo tornati nel passato, che certe conquiste non sono così più scontate. Un esempio. Un po' di anni fa, quando io studiavo, malgrado io venissi da una famiglia, diciamo, umile, ma c'era una certezza di stipendio. E quindi quando quella famiglia aveva deciso di far studiare, con i sacrifici sapeva che poteva far studiare. Oggi è evidente che quei lavoretti che facevo io per studiare sono diventati spesso i lavoretti che fa una famiglia per sopravvivere. Ed è evidente che col precariato e con i bassi stipendi fa studiare un ragazzo, io penso sia un pochino complicato. Quindi è come se si fosse tornati indietro. Quindi quei giovani sentono di dover rifare quelle battaglie. Avete detto che in Italia non succede tutto questo. Non in questa forma. Però è anche vero che tu prima hai fatto un riferimento a Elie Schlein, alla sua vittoria, inaspettata. Non ci avete visto arrivare. Non ci avete visto arrivare. Guardate, hanno votato giovani e donne perché poi alla fine quei temi delle piazze francesi sono tornati nell'agenda che lei aveva. Le donne, i giovani, l'ambiente, l'ecologia. Cioè i temi che oggi i ragazzi sentono perché sentono che gli sta scivolando il futuro. Cioè che mondo ci avete lasciato? Quale opportunità abbiamo? E possiamo veramente riuscire a stare meglio? Oppure il nostro destino è segnato perché non abbiamo futuro? Quindi in realtà questo c'è tra i giovani. E tornando alla discussione che facevamo prima, non esiste possibilità di investimento nella scuola per far funzionare l'ascensore sociale, qualsiasi esso sia, se non si investe e se non si dà una mano alle famiglie per avere redditi più alti. Perché senza famiglie che sostengono chi è povero, studiare non studia. Non è possibile studiare. Cioè ormai nelle famiglie c'è la necessità che i ragazzi vadano a lavorare. A lavorare e portino indietro qualcosa. Polverini? Allora intanto io penso che un po' di colpa le abbiamo anche noi. Perché abbiamo, come dire, dipinto un mondo ai nostri figli che era un mondo appunto che aveva conquistato diritti, tutele e che in qualche modo aveva trovato una sua stabilità. Era fatta. Era fatta. Quindi questo lo abbiamo fatto nelle famiglie. È stato fatto colpevolmente, io vengo da quel mondo, anche dal sindacato. Che in questo ha una grande responsabilità. Perché ha intercettato allora sicuramente, come dire, le masse operaie, attraverso le grandi battaglie hanno conquistato diritti. Dopodiché il sindacato in Italia, non negli altri paesi europei, fermiamoci all'Europa, si è molto istituzionalizzato. Nel senso che ha passato un momento in cui era come se fosse parte del governo. Qualunque governo c'era. Questo naturalmente ha disincentivato anche, no? Le nuove generazioni in qualche modo ad affidarsi a queste categorie sindacali. E questo, secondo me, è un fatto sul quale troppo tardi si è iniziato a riflettere. E molto spesso le discussioni che sono state fatte all'interno delle organizzazioni sindacali sul come intercettare i giovani, sul perché i giovani non si affidavano al sindacato, eccetera, erano in contrasto nettamente con quelli che poi erano le nuove lavori, i nuovi lavori, che erano assolutamente privi di tutela e per i quali i sindacati tutto sommato non trovavano un impegno così costante e continuo perché richiedeva uno sforzo straordinario. Quindi io penso che da questo punto di vista il sindacato ha anche una grossa responsabilità, come del resto la politica, come del resto le classi dirigenti che tra l'altro hanno abbassato un po' nell'insieme proprio il loro livello culturale. Anche questo va detto in tutti i settori. Ce la siamo presa con la politica, ma in realtà il paese in un momento si è un po' ripiegato su se stesso. Io però ho una grande speranza perché noi in questo momento abbiamo una condizione ideale e soprattutto stiamo cambiando e possiamo cambiare non soltanto i destini dell'Italia ma anche dell'Europa. Noi abbiamo una donna che guida il governo, cosa diciamo fino a qualche anno fa totalmente, come dire, inimmaginabile in questo paese, fortemente maschilista, dove alcune ce l'hanno fatta. Io nel mio piccolo sono tra quelle, però lottando tantissimo. Quindi non è stato facile per nessuna di noi. Quindi questo secondo me è già un primo segnale importante. Una donna di destra che sta dando comunque l'idea che la destra non è quella che ci hanno sempre dipinto. Perché poi abbiamo visto che si è in qualche modo, sta lavorando in assoluto contrasto con quello che tutto sommato una parte del paese immaginava. E abbiamo una giovane donna e io penso che la Schlein abbia anche usufruito del fatto che c'era una donna al governo. Perché? Perché la sinistra in qualche modo ha cercato un riscatto. Io ho apprezzato molto e ho seguito molto il fatto che questo riscatto del Partito Democratico poi sia venuto dalle giovani generazioni e dalle donne. Quindi significa che è scattato qualcosa nel paese e ci guardano con attenzione. Io penso che anche nelle prossime elezioni che ci saranno nei paesi dopo quelle della Finlandia comunque ci sarà un capovolgimento. Mi auguro che non sia soltanto un capovolgimento diciamo rispetto alla sinistra e alla destra ma che sia anche un capovolgimento rispetto a paesi ancora fortemente maschili che vadano in quella direzione. Su questo io dico una cosa mi auguro che da una parte la Presidente del Consiglio che è stata criticata in maniera assurda quando ha detto anche lei non ci hanno visto arrivare che secondo me era un segnale alla Schlein per dire eccoci siamo noi due parliamoci noi due evitiamo intermediazioni ecco mi auguro che le due in qualche modo non si facciano giustamente opposizione su quelle che sono le idee reciproche ma lo facciano in maniera diversa rispetto a come oggi la politica ci abitua su questo speriamo essendo donne che lo possano fare mi permetto io sono molto d'accordo che l'elezione di Giorgia Meloni abbia favorito il passaggio successivo di Elislein perfettamente questa è cosa nota per chi ha lottato che ogni emancipazione serviva poi all'emancipazione dopo di me arriva la prima segretaria della CGL sono passaggi storici sono passaggi storici che evidentemente poi portano d'altro però c'è un elemento queste due donne vinceranno solo la loro battaglia di donne al potere se riusciranno a invertire quello che c'è sotto perché il 50% delle donne non lavora in questo paese il 50% delle donne non lavora spesso non lavora perché non può fare figli e lavorare prima del covid le ore dedicate di una donna al lavoro domestico tra le cinque ore dopo il covid sono sette ma una che dedica sette ore spesa figli nonni malati ma come può lavorare abbiamo già lavorato oppure lavora e chiede il part time ma chi chiede il part time obbligato in questo caso noi pensiamo che venga favorito al lavoro o viene messo da un lato o viene considerato quello che tanto all'azienda può dare meno voglio dire anche questa è una logica capibile quindi queste due donne vinceranno solo se su questi temi faranno la differenza e quindi se Giorgio Meloni da donna di destra invertirà alcune letture della società anche sul tema non solo della parità perché io non sono per un femminismo paritario perché la parità sono i diritti i diritti sono ovvi sono in costituzione ma per un femminismo è la differenza se noi non partiamo dalla differenza da cui si parte non avremo mai modo che il denaro pubblico arrivi a tutti nello stesso modo non arriva nello stesso modo perché se parti svantaggiato che tu sia povero o donna non arriva nello stesso modo quindi io penso che Giorgio Meloni possa insieme alla segretaria fare la differenza se si occuperà ovviamente di questa parte dei paesi e noi sappiamo ovviamente che se si investisse su questo noi produrremo a livello mondiale un pillo pari a quello che producono le quattro aziende più grandi al mondo quindi investire sulle donne vuol dire investire nell'economia perché poi però Virginia i giovani e in particolar modo le giovani a cosa devono rinunciare? Devono rinunciare a qualcosa? Oggi parlo di una famiglia di spostare l'asticella più in là per poter lavorare poter accedere diciamo così a quello che richiede il mondo del lavoro? Beh questo è sicuramente un tema è un tema diciamo caldo e dipende anche dove puoi effettivamente poi trattarlo se trovi come nel nostro caso un'azienda che è favorevole con molte donne in cui quando finalmente anche per noi è passato diciamo siamo passati di un'altra fase ossia molte colleghe hanno avuto dei figli quindi anche l'azienda è cresciuta e quindi la famiglia si è allargata per noi è stata una festa ma so che non è così dappertutto quindi il fatto di trovare anche come dire un sistema di aziende che sia favorevole che possa in un certo senso favorire il fatto che le donne effettivamente è meglio essere guidata da una donna è più comprensiva allora questo è il tema dei modelli quello che dicevate prima per noi è un tema cruciale quanti più modelli abbiamo quanto più questo effettivamente diventa normale e quante più donne ci sono anche lì dove si può decidere quanto più io credo questo possa favorire perché porta da un punto di vista proprio materiale un punto di vista che è diverso un'esperienza che è completamente diversa magari anche con percorsi di formazione citavamo prima che possono abilitare sempre più ad una confidenza che è una confidenza con se stessa una confidenza col mondo del lavoro con alcune professioni citavate prima tante professioni ma anche percorsi più tecnici immagino tutto il filone dello STEM che non è ancora così tanto effettivamente poi praticato o scelto dalle donne ebbene quello potrebbe essere potrebbe rappresentare un passo in più per abilitare una popolazione femminile che in effetti se non lavora abbiamo un problema abbiamo un problema sul welfare abbiamo un problema sul sistema pensionistico abbiamo un problema sulla sanità quindi deve necessariamente mettersi in gioco e poi prima citavate una frase il non ci hanno visto arrivare che non è loro che non è loro no 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 assolutamente perché lì per lì si è pensato no no non è loro non è loro è il titolo di un libro siamo consapevoli quello che mi preoccupa di questa frase è il non ci hanno visto se posso perché arrivare siamo arrivati ok ma il non ci hanno visto proprio per ritornare al tema dei modelli rappresenta secondo me la più grande sfida su cui dobbiamo un po' tutte impegnarci perché continuano un po' a non vederci diciamoci la verità Francesco volevo restare un attimo sulla Francia perché quello che abbiamo visto e continuiamo a vedere in questi giorni è qualcosa che secondo me insomma non stiamo valutando con la giusta attenzione intanto mostrano un Macron in difficoltà e anche in calo per carità se poi riesce a portare in porto questa operazione con la riforma delle pensioni diciamo che probabilmente fa fa anche una mossa a suo favore però in tutto questo però la Le Pen sta tornando su nei sondaggi proprio radicata su questi temi allora io intanto permettimi di aggiungere una cosa per chiusare il discorso che facevate sulle donne io parlo da persona che è sposata con una dirigente che fa tutti i giorni Parma-Milano quindi tenendo due figli quindi è una cosa multitasking di acciaio credo che le donne abbiano possibilità immensamente superiore nei uomini e come dice spesso Veronica De Marromani su cui ci troviamo a parlare di questi dibatti queste cose se ci investiste veramente sulle donne e ci fosse parità di genere sarebbe il 3% del PIL in più sono 2000 miliardi in più di PIL all'anno a livello mondiale quindi è una roba che purtroppo siamo ancora in questa condizione per quello che riguarda e l'autrice era Elisa Levenstein vi ricorderete non ci hanno visti arrivare che era una grande scrittrice americana la quale poi tra l'altro ha avuto anche una polemica con la Meloni ma quello è un altro discorso sul discorso della Francia a noi sembra paradossale perché si parla di alzare l'età delle pensioni a 64 a 62 anni per noi che le avevamo a 67 ci sembra quasi una cosa innaturale scendete in piazza per queste cose qui tra l'altro scendono in piazza forti di un welfare che è straordinario in Europa credo che sia dal punto di vista proprio del welfare familiare la Francia sostegna la famiglia in assoluto riesce a fare in modo che la famiglia ti cresca e infatti la grande spinta demografica della Francia è dovuta proprio al welfare che da qui a ritroso 30 anni fa è diventato un modello in tutto il mondo però è vero mi dicevano anche i corrispondenti dalla Francia che noi diamo per scontato che magari non abbia vinto perché in realtà con questo con questo l'applicazione dell'articolo 49.3 della Costituzione che consente di saltare l'Assemblea in specifici casi come in questo caso qui nel caso delle riforme del lavoro sembrava cosa fatta ma in realtà se dal punto di vista parlamentare blindato dal punto di vista delle masse popolari sta accadendo qualcosa sta accadendo qualcosa c'è un malessere che viene ad incanalare poi altri tipi di malessere e quindi quello a cui dicevi adesso poi si aggiungono i giovani i giovani anche in Francia non è che i giovani in Francia lavorano molto più dei nostri i nostri giovani hanno il meno 2,9% di stipendi rispetto a tutto il resto d'Europa cioè siamo gli unici ad avere stipendi sotto rispetto alla generazione precedente quelli francesi sono i primi 5 quindi non dovrebbero teoricamente dal nostro punto di vista paradossalmente non perché siamo più sfigati ma perché non li capiamo non lo comprendiamo ma invece non capiamo ma questa cosa qui rischia di mettere veramente a ferro e fuoco l'internazione e il Macron lo vedo molto male adesso credo che la prospettiva sia quella di non cedere fare una roba come aveva fatto De Gaulle se tu ti ricordi nel secondo dopoguerra il primo dopoguerra De Gaulle fu chiamato fu cacciato poi dai francesi di fatto perché voleva imporre delle riforme lo richiamarono nel 64 lui disse guardate adesso mi lasciate fare a me le cose e quindi a questo punto poi ci vuole aggrander non me l'hai chiesto perché c'ero vero? non era questo l'interno andiamo in pubblicità poi torniamo allora sento anche subito Andrea Ruggeri su quello che sta accadendo in Francia poi andiamo a ascoltare le parole di un'altra di una studentessa che anche queste hanno fatto molto discutere in questi giorni Andrea tu come la vedi la Francia insomma da noi non esiste insomma non c'è non c'è mai nulla di questo sì io onestamente credo che i giovani francesi abbiano pienamente torto che stiano recitando francamente degli slogan anche un po' luogo comunistici ecco diciamo così la verità è che obiettivamente la riforma delle pensioni di Macron è sacrosanta è in loro favore peraltro e penso che anche in Italia si debba aprire velocemente un discorso su questo perché la nostra traiettoria anagrafica dice che tra 15 anni se continuiamo così ci sarà un giovane chiamato a lavorare per mantenere tre pensionati la domanda che vi faccio ma è ovvia è quanto dovremo tassare quel giovane per mantenere tre pensionati perché è atteso che siamo tutti contenti che l'attesa di vita si sia prolungata in Italia che dunque la gente vive di più però insomma è impensabile poi ecco tra 15 anni diremo poveri giovani che hanno uno stipendio netto che è un quarto dell'ordo perché devono mantenere tre pensionati quindi io voglio dire questo è un appello che uno deve rivolgere alla politica la politica deve essere lungimirante deve sapere spiegare le cose poi i giovani hanno anche il diritto di sbagliare perché questo aiuta a completare la loro personalità quindi io non mi disturba il fatto che dei ragazzi sfidano sui scienze di sé ballando e dicendo anche un po' di cavolate poi insomma se si rassurano in vandali per quello c'è la la repressione forse dell'ordine che aiuta anche con l'esperienza diciamo è un altro discorso certo però voglio dire inutile stare a lamentare cose che ripeto sono necessarie attesa l'anzianità di vita che si allunga e atteso il fatto che comunque obiettivamente bisogna pensare anche al futuro noi in Italia ripeto questo problema lo scansiamo e non mi piace neanche sentire dire la repenna che come dire va lì a solidicare certi istinti ma non è diciamo difendendo lo status quo che è destinato comunque a finire peggio peraltro di come finirebbe se non ci pensi oggi che fai un passo avanti la politica deve sapere spiegare certi cambiamenti che sono necessari da portare nell'interesse di tutti anzitutto dei giovani allora andiamo ad ascoltare le parole di una studentessa che ha aperto l'inaugurazione dell'anno accademico all'università a Ferrara che sono parole che anche queste hanno fatto molto discutere sentiamo sono un fallimento non merito di vivere queste non sono le parole che intitolano l'ennesimo giornale che riporta quotidianamente accanto alle morti delle nostre compagne l'esaltazione di una studentessa che riconosce nel sonno un ostacolo per laurearsi nella metà del tempo queste parole sono uscite dalla stessa bocca che oggi della persona che oggi sta parlando di fronte a voi queste parole le ha dovute sentire e subire mia madre quando subito dopo il test di medicina ho percepito di non avercela fatta per la seconda volta che esagerazione per un test che si può riprovare l'anno successivo ma come possiamo pensare che il percorso universitario debba essere dettato dai nostri tempi che sia di nostra proprietà mentre siamo bombardati costantemente dal mito della performatività e da una competizione illogica che ci sbatta in faccia ai successi degli altri e ci fa tirare un sospiro di sollievo quando qualcuno fallisce al posto nostro citando Alessandro Barbero in altre epoche credevano nelle streghe e noi crediamo alla meritocrazia si pensa banalmente che il merito possa essere un criterio equo sostituto del vecchio privilegio del quale invece ha ereditato tutto il divario e la disparità ma con una mutazione acquisita l'ipocrisia le borse di studio sono un ricatto se tutte abbiamo lo stesso diritto perché qualcuna dovrebbe essere costretta a tenere tempi più serrati solo perché è più povera il sistema universitario è classista afferma una studentessa che come noi si ritrova in un'università smembrata dove i saperi non fluiscono non si differenziano ma si trovano a dover fare i conti con un'istituzione che disconosce la nostra umanità piegandosi ai ricatti del mercato nel sistema attuale le università promuovono l'illusione di garantirci pari strumenti attraverso borse di studio e studentati nella realtà accedere a questi servizi diventa molto complesso a causa di sbarramenti burocratici socio-economici e soprattutto meritocratici ma badate bene ci viene data la possibilità di redimerci dalla nostra condizione di povertà come se fosse una colpa poi a patto di dimostrare di esserne meritevoli conseguendo risultati eccellenti entro periodi di tempo cadenzati e ristretti tutto allo scopo di misurare quanto siamo performanti e catalogarci giusti articoli di un'intensa produzione con il risultato di generare grandi bilanci sacrificando il benessere e la qualità del percorso accademico ma chi detta le regole di questa produzione intensiva la gestione neoliberale dell'azienda universitaria si traduce nell'applicazione dell'FFO la cui quota premiale trasforma i finanziamenti in premi per le atenei più numerose e performanti defraudando quelli piccoli e considerati improduttivi che si trovano costretti a decidere se elevare la contribuzione studentesca o ad aumentare il numero di iscritti per diventare elegibili all'assegnazione dei premi le studentesse e gli studenti non sono il mezzo per sostentare la formazione il diritto allo studio deve risiedere nell'emancipazione collettiva e deve essere parte integrante e inscindibile del welfare sociale pubblico gratuito e garantito dallo Stato per tutte come sancito dalla Costituzione Allora direttrice Pini a parte tutto il tema ovviamente della difficoltà di accedere al discorso di test di medicina che insomma più volte è stato fatto però la frase le borse di studio sono un ricatto è una frase forte è un concetto che insomma ha suscitato diverse reazioni le borse di studio sono potenzialmente un'opportunità straordinaria lo sono state in passato continuano ad esserlo tuttora per poter fare moltissime cose poi che quando parliamo di eguaglianza di parità anche a scuola anche nell'università ci sia un idealismo che ancora non trova un suo coraggio esattamente concreto è altrettanto vero c'è le distorsioni rispetto alle borse di studio di studio sono vere pensare che ancora oggi nel 2023 studenti che arrivano da classi sociali diverse perché esistono ancora ampiamente le classi sociali della nostra contemporaneità abbiano le stesse opportunità non è vero non è vero l'Italia è ancora meno vero all'estero ci trovate gli Stati Uniti sono un mondo dove essere studenti è ancora veramente in realtà molto complessa proprio perché questo sistema classista è ancora più evidente anche se ci sono molte borse di studio che funzionano ma non illudiamoci che siano la medicina ogni diseguaglianza non lo sono ovviamente quindi bisogna ascoltare con molta attenzione molto rispetto anche queste istanze tra l'altro molto civili degli studenti di oggi appunto non è che mettono a ferro fuoco all'università non scendere in piazza ma con molta civiltà e luoghi pubblici istituzionali davanti alle massime cariche dello Stato fanno presenti delle situazioni che comunque devono essere cambiate e migliorate proprio perché l'idea che ci sia un'effettiva eguaglianza tra chi oggi ancora oggi ha accesso al mondo dell'alto studio dell'alta formazione quindi dell'università perché tale è veramente un po' ipocrita ce lo dicono anche i numeri dei laureati ecco di nuovo pensare che sia solo una questione di merito cioè non si laurea solo chi non è buono non è bravo un po' semplicistico si diceva anche 60 anni fa quando i temi erano ancora più evidentemente diversi ed evidenti rispetto al fatto che non è che fosse solo una questione di merito era all'epoca una questione di opportunità e ancora oggi è moltissimo una questione di opportunità non dircelo liquidare tutto come un boh ma questi non ce l'hanno voglia davvero è è un torto ingiusto che facciamo a questi ragazzi è assurdo Francesco dice questa ragazza la società ci chiede di essere anche l'università il mondo dell'istruzione performanti però poi dall'altra parte c'è chi dice c'è la competizione insomma è la naturale competizione che poi c'è sul mercato dobbiamo sganciarci dal punto di vista delle nuove generazioni da questi miti miti liberistici perché non esistono di fatto la Costituzione all'articolo 34 dice che i capaci meritevoli a parità di condizioni devono a parità di condizioni esatto a parità di condizioni ma certo scusate non è che si può dare alle capre la possibilità a chiunque ma scusate non esistono pasti gratis lo Stato fa in modo di consentire a tutti di poter studiare poi a parità di condizioni vuol dire che se a un certo punto tu ti trovi condizioni non solo lavorative ma anche intellettuali di famiglia eccetera tutti trovi nella condizione di essere uguale a un altro e lo Stato ti dà la possibilità se sei più capace più meritevole dimostri di essere ma io vi parlo da studente lavoratore io mi sono laureato come studente lavoratore anche con le borse di studio io trovo secondo me è assurdo mi viene adesso le sinapsi cominciano a ribollire su questa cosa qui mi si viene a dire a un certo punto dice no ma devono dare le sovvenzioni a tutti i fondi a tutti i borse di studio ma se uno non è capace a studiare ti prendo a calci mio padre faceva così e studiavi e vai avanti non siamo usciti male dopo alla fine la Costituzione è precisa nasce da un'idea di Calamandrei quella cosa lì dice a un certo punto i meritevoli devono essere aiutati sempre in ogni caso il merito è la fonte è la base di tutto non togliamoci dalla testa che non esiste il metodo perché ogni volta che si parla di merito la sinistra dice ma un conto è un merito un conto è un inclusività che non vuol dire assolutamente nulla il merito è il merito non è questo io credo che ognuno di voi sia lì perché sia stata meritevole di esserci stato lo stesso Andrea siamo qui perché abbiamo fatto qualcosa nella vita non prendiamoci per i fondelli perché io mi sono fatto un mazzo così all'università studiando e lavorando e lavorando in tempo ma porca miseria io ogni volta che sento questa cosa qui mi viene la pelle che mi schiazza scusate mi partono l'embole allora Ruggeri condividi Simone no ne condivido una parte non tutto perché sei spaventata no per l'aggressività no ne condivido una parte perché non penso ci sia da fare una contrapposizione netta non è bianco e nero come nel discorso della ragazza non penso che le boste di studio siano ricatto sono servite servono ancora e spesso vanno ai meritevoli indubbiamente ma nello stesso tempo la ragazza avrebbero un po' semplificate perché sono un po' complesse diciamo a volte accedere non è così semplice avrebbero aumentate ma questo è un altro discorso però nel discorso della ragazza c'è altro che è la cosa che non divido non condivido con l'ultima l'ultima affermazione la sinistra dice che le stesse parità di condizioni significa che io al ragazzo della famiglia povero lo metto nella condizione di poter studiare come quello della famiglia ambiente cioè di poter studiare per esempio magari senza lavorare a tempi pieni cioè quando io dico devi riuscire in tempi certi bisogna che quello abbia la possibilità di studiare in tempi certi cioè ci sono dei ragazzi che non lo possono fare allora metti tempi certi cioè se tu sfori puoi fare due cose io che dovevo lavorare e facevo anche politica diciamolo lavoravo facevo politica e studiavo è ovvio che avevo messo in conto di laurearmi un po' dopo per ovvie ragioni potevo fare tutto ma oggi ci sono condizioni differenti lo ripeto venivo da una famiglia dove mio padre e mia madre sapevano di avere garanzia di stipendio anche se basso di incontinuità ma ci sono condizioni diverse prima c'era un titolo che raccontava come a Napoli c'è una dispersione scolastica 23% alle elementari alle medie e quindi poi questi ragazzi si perdono che parte dalle famiglie è una questione di cure di educazione familiare Napoli è un caso a parte no Napoli non è un caso a parte quando questo riguarda metà dell'Italia non è un caso a parte quando metà delle ragazze dei bambini smettono di studiare dovuto all'infiltrazione della malaveta a Napoli ma non è solo questo guardate in una famiglia in una famiglia povera è ovvio che altre diventano le priorità quelle famiglie sono sempre le famiglie anche dove c'è meno cultura che proviene ovviamente dalla generazione precedente cioè non dividiamo il merito dalle condizioni perché possono stare insieme il merito e le condizioni però devi essere devi andare a lavorare prima che nella scuola nelle condizioni familiari delle famiglie se no quelle famiglie mi diranno ma non capisco questo concetto me lo puoi riarticolare cioè qual è la non riesco a capire cosa vuol dire andare nelle condizioni delle famiglie forse non ci arrivo io cioè la scuola finché avremo famiglie con bassi redditi come quelle che abbiamo non si possono permettere di mandare i figli a scuola non si possono permettere di mandare i figli a scuola quando lavori con un lavoro precario all'università ci sono delle tasse guardate uno dei miei migliori amici è figlio di un agricoltore brindisino che guadagnava 15 mila euro all'anno è diventato cardiochirurgo a Brescia è uno dei migliori ma questo non c'entra a nulla ma se non puoi pagare le famiglie povere sono aiutate dallo Stato glielo articolo con un esempio semplice glielo articolo con un esempio semplice famiglia che non può pagare le tasse universitarie in continuità ok ci sono borse di studio aspetta ci sono borse di studio quindi la famiglia povera può essere solo con meritevoli eccellenti ma se non ci siamo cosa dobbiamo fare mi dica la soluzione mi dica la soluzione allora nell'università tra i ragazzi delle famiglie abbienti ci sono quelli eccellenti quelli meno eccellenti quelli medi arrivano tutti a laurearsi quindi lei dice in una famiglia non abbiente si laurea solo l'eccellente gli altri due siccome possono pagare le tasse universitarie ebbene non si laureino ma ci sono le borse di studio no le borse di studio sono per gli eccellenti se lo faccio a dire che almeno le borse ha due figli le borse di studio sono per gli eccellenti quindi lei mi dice che in una famiglia una famiglia che può pagare il tasso universitarie ci si può laureare con 110 o anche con meno in una famiglia che non può pagare il tasso universitarie o hai 110 o non ce la fai Polverini posso dire una cosa? prego sentiamo anche Polverini secondo me torniamo a ragionamento iniziale Simona nel senso che secondo me c'è un vizio di fondo che nessuno in qualche modo ha il coraggio di affrontare per davvero noi dovremmo avere una scuola pubblica dalle elementari alle medie selettiva nel senso non selettiva dal punto di vista economico ma selettiva sul fatto che possa indirizzare realmente i ragazzi e noi abbiamo peccato proprio quando abbiamo indebolito alcune figure professionali perché come abbiamo già detto arrivati a un certo punto tutti erano convinti che si poteva andare al liceo e dal liceo andarsi a laureare quindi abbiamo in qualche modo tolto delle opportunità invece di darle quindi molto spesso i ragazzi poveri non hanno la possibilità dentro l'istruzione scolastica diciamo iniziale obbligatoria di essere selezionati perché migliori e quindi arrivano all'università soltanto se la famiglia se lo può permettere quindi io condivido con Andrea una battaglia che faccio da una vita ho iniziato che era una giovane sindacalista e ancora purtroppo non l'abbiamo vinta che è tutto il sistema dell'istruzione che va rivisto perché c'è anche un altro tema oggi la laurea quanto vale? quante università ci sono rispetto a prima quanti ragazzi o non ragazzi possono esibire un titolo di studio che è una laurea ma che non ha la sostanza di una vera come dire formazione perché anche questo è un tema si è dato il via libera a qualunque tipo di università allora se noi non affrontiamo il problema alla radice io non credo che noi lo risolveremo dobbiamo trovare il modo di dare alle persone alle famiglie meno abbienti la possibilità all'interno del sistema di istruzione di far selezionare i loro ragazzi e di dargli un percorso per quelle che sono le loro potenzialità faccio un esempio stupido da presidente di regione io cercai di farlo poi purtroppo siamo andati via cercai di mettere all'interno del tessuto diciamo territoriale della regione ed in particolare delle grandi città delle periferie delle scuole di formazione musicale perché? perché come per alcuni tipi di laurea ecco i ragazzi ci sono dei ragazzi che magari vivono a Roma diciamo San Basilio che possono avere delle potenzialità enormi perché sono come dire portati per il pianoforte per la chitarra per quello che è ma dove dove vanno a farsi vedere e allora poi troviamo il pianista che viene sempre da una famiglia diciamo facoltosa allora io penso che è tutto da rivedere le istituzioni invece di litigare dovrebbero mettersi e io mi auguro quello che dicevo prima che da parte di due donne questo ci possa essere alcune riforme vanno fatte indipendentemente da chi c'è in maggioranza e chi c'è in opposizione vanno condivise e vanno poi confermate ed arricchite se noi continuiamo a fare come è stato fatto in particolare sulle riforme della scuola sempre riforme di parte noi non andiamo da nessuna parte Virginia posso chiederti un'ultima cosa in merito a questo cioè se tra i tuoi dipendenti le tue dipendenti che tipo di percorso precedente hanno appunto in questo senso se è un percorso che hanno fatto diciamo così sostenuti in un certo modo di eccellenza o di scuole particolari o private oppure se invece guarda in verità la diciamo la nostra comunità aziendale è abbastanza variegata da questo punto di vista proprio perché trattandosi di comunicazione abbiamo chi magari ha fatto percorsi classici ha studiato lettere ha studiato comunicazione ha studiato marketing sia all'interno di università pubbliche che università private abbiamo chi ha studiato cinema abbiamo chi ha studiato arte abbiamo chi ha studiato design abbiamo anche dei PhD che però hanno deciso poi di anziché proseguire con la carriera diciamo accademica hanno voluto poi applicare anche al mondo della comunicazione in questo caso tutte le loro competenze con una formazione privata o pubblica entrambe devo dire entrambe sì sì abbastanza ecco da questo punto di vista abbiamo persone che magari non si sono laureate e che sono degli ottimi collaboratori perché applicati laddove riescono a creare valore per loro stessi e per l'azienda quindi sai fare l'imprenditrice avere un'azienda significa anche provare a trovare un mix tra le competenze le aspirazioni il talento anche le ambizioni dove vogliamo arrivare perché poi se ci arriviamo insieme sicuramente è molto più semplice quando effettivamente ci sono delle differenze questo diventa complicato quindi diciamo noi come azienda dobbiamo anche abilitare le persone a poter fare i percorsi che desiderano questo è forse la più grande sfida mi si apre il cuore senza parlare Virginia però c'è un momento di ossigenza da un po' di positività allora in chiusura di questo blocco andiamo velocemente dal nostro Carmelo Schirina che si trova davanti al San Raffaele sapete naturalmente che ieri Berlusconi ha iniziato questa cura e insomma è stata una notte tranquilla migliora e speriamo che continui su questa strada Carmelo buongiorno sì buongiorno Gaia io mi trovo alle mie spalle vedete proprio l'ingresso al padiglione Q qui almeno uno si trova Silvio Berlusconi c'è la terapia intensiva come dicevi tu giustamente sì è stata una notte tranquilla così ci fanno sapere fonti diciamo al San Raffaele dovrà fare dei nuovi accertamenti a 48 ore dal suo ricovero urge una nuova TAC per vedere il funzionamento degli organi si monitorano al momento polmoni cuore e reni c'è stata un'insufficienza renale riscontrata subito prima subito dopo il ricovero che adesso pare stia rientrando le condizioni sono tutto sommato buone dorme parecchio ma quando è sveglio è assolutamente vigile anche oggi dovrebbero tornare a trovarlo parenti e amici entrano proprio da questo ingresso Tajani il coordinatore nazionale ministro degli esteri ha fatto sapere di aver sentito Zangrillo di aver avuto rassicurazioni anche da lui continuiamo a monitorare durante tutta la giornata in attesa di un possibile nuovo bollettino o forse magari di una possibile prognosi anche se è ancora un po' presto perché abbiamo un quadro clinico sappiamo che Berlusconi lotta adesso contro una leucemia e contro cronica meno grave di quelle acute e con una polmonite e quindi un fisico debilitato esposto a infezioni ma che tutto sommato sta reagendo bene sia alla cura antibiotica che a quella chemioterapica che avviene attraverso delle compresse prese per bocca tutto sommato riesce adesso ancora a esserci a lottare bene i medici sono abbastanza soddisfatti grazie dobbiamo chiudere questa parte andare in pubblicità Renata Polverini si è aperto un dibattito adesso su come Forza Italia affronterà in qualche modo un percorso si parla di congressi guardi io ho sentito queste discussioni sul futuro di Forza Italia è ancora abbastanza presente tantissime volte ogni volta che il presidente Berlusconi ha un problema di salute si apre un dibattito io dico sempre a tutti i miei colleghi stiamo un attimo fermi vediamo che cosa succede perché Berlusconi ha sette vite come i gatti è già risuscitato diverse volte quindi aspettiamo e poi trovo veramente poco serio iniziare un dibattito su un futuro di un partito che è stato diciamo Berlusconi da 30 anni quando ancora è come dire insieme a noi come ci viene detto è una fase comunque molto delicata lotta lotta come un leone e deve avere il tempo insomma di reagire e di vedere come evolve la situazione auguriamo tutti una pronta guarigione assolutamente sì grazie grazie a tutti grazie Andrea Ruggeri grazie a Francesco Specchia anche alla direttrice Pini Polverini Elisa Simoni e Virginia Gullotta grazie mille adesso andiamo in pubblicità poi per chiudere questa bella giornata parliamo con una giovanissima scrittrice donna allora non potevamo che concludere questa puntata di Omnibus oggi con un libro un libro appena uscito e soprattutto un libro di una giovane scrittrice che è Arianna Mortelliti ciao Arianna benvenuta quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni ed è un romanzo delizioso e soprattutto è il tuo primo romanzo adesso ti dirai di che cosa parla perché hai deciso di scrivere quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni allora io ho iniziato a scrivere in realtà sotto consiglio di mio padre che mi ha sempre spronato a farlo e per me in realtà scrivere questo romanzo è stato molto terapeutico perché io diciamo attraverso la fantasia e l'immaginazione sono riuscita a trovare risposte a quelle domande alle quali non è possibile rispondere attraverso la ragione e quindi ho provato a immaginare cosa potesse sentire percepire una persona che si trova in uno stato di coma e anche provare diciamo a capire cosa sentano le persone che lo circondano e che quindi lo vanno a trovare in ospedale quindi è una storia non reale io sono sono partita chiaramente da una mia esperienza personale da un mio dolore e esattamente un anno dopo il mio lato diciamo più più curioso ha ripreso piede in me e ho deciso di raccontare la storia di Arturo e della sua famiglia Arturo è un uomo di 95 anni che in seguito ad una caduta in casa viene portato in ospedale e cade in un sonno molto profondo in questa sorta di coma però la coscienza di Arturo rimane in qualche modo vigile e si trova in una sorta di altrove di al di là insieme al fratello Dado che manca dalla scena familiare da moltissimi anni e con il quale Arturo può confrontarsi contemporaneamente Arturo può ascoltare tutto quello che gli viene detto dai familiari che lo vanno a trovare e soprattutto può ricordare i suoi ricordi sono strettamente connessi a quello che gli viene raccontato dalla famiglia quindi attraverso i ricordi di Arturo queste confessioni dei familiari e il dialogo con il fratello Dado nel romanzo si può ripercorrere tutta la vita non solo di Arturo dall'infanzia fino all'anzianità certo ma di tutta la famiglia famiglia che sembra una famiglia serena e unita ma che in realtà nasconde alcuni segreti che poi chiaramente vengono svelati nel romanzo come tutte le famiglie tra l'altro tu hai anche una insomma una gran insomma prefazione o comunque qui c'è Maurizio De Giovanni che dice ci abbiamo pensato tutti avere la facoltà sull'orlo della morto e dopo una lunga vita piena e affollata di ascoltare per un po' quello che i nostri affetti dicono di noi potendo invitare alla riunione anche chi non c'è più proprio perché siamo nella terra di nessuno tra un mondo e l'altro e intanto ti voglio chiedere una cosa perché è una curiosità il titolo è tuo allora il titolo è mio ed ha una storia particolare perché quando io ho iniziato a buttare giù le prime righe le prime pagine di questo romanzo in realtà non sapevo che sarebbe diventato tale quindi non sapevo come memorizzare il file sul computer siccome io mangio molti peperoni mi piacciono molto scherzosamente l'ho chiamato caratteristica siciliana poi dopo diciamo perché scherzosamente l'ho chiamato peperoni poi sono rimasta abbastanza affezionata a questo nome e la condizione di Arturo mi ricordava molto come quando si fanno questi sogni a tratti vividi a tratti confusi in cui i suoni poi della realtà si mischiano un pochino con l'esperienza onirica e quindi ho voluto lasciarlo a un certo punto è proprio Arturo a dire a Dato mamma mia mi sembra come quando Carolina che è la moglie mi cucina per cena i peperoni ecco e ci hai messo pochissimo a scriverlo ci ho messo un mese ci ho messo un mese perché avevo abbastanza la storia in testa diciamo per pensare alla storia ci ho messo un pochino e mi ha aiutato anche molto il traffico di Roma perché io in quel periodo abitavo a Montemario quindi per tornare a casa la sera mi dovevo sempre fare almeno un'oretta di traffico e mi ricordo proprio diciamo che l'idea di quella che poi è la storia principale del romanzo mi è venuta nel traffico che è un grande classico e poi ho niente ho iniziato a buttare giù e sì ci ho messo un mese senti voglio dire è evidente la tua passione per la scrittura e anche diciamo così per il romanzo insomma io sono certa che questo è il primo di una lunga serie di libri che ci regalerai però tu nella vita che fai? io sono insegnante di scienze al liceo e qui un po' ti si spegne mi si spegne un po' l'entusiasmo sì ho fatto il liceo classico come tutta la mia famiglia però poi ho deciso di laurearmi in biologia alla sapienza e faccio l'insegnante però a un certo punto è emersa questo sì è proprio la mia prima esperienza da scrittrice io ho avuto la fortuna di lavorare con nonno nell'ultimo anno della sua vita e io penso che questo nonno è camilleri quindi voglio dire diciamo che ha respirato un'aria esatto però ecco diciamo che lavorare a stretto contatto con lui me l'ha fatto conosci anche sotto una prospettiva che per me poi era inedita non era più soltanto mio nonno e vedere come lavorava anche se io in quel periodo della mia vita non pensavo che mai avere scritto comunque tutto il suo modo di lavorare mi è tornato sicuramente utilissimo e c'è qualcosa appunto della sua scrittura o dei suoi racconti o delle figure che lui raccontava che ti sei portata in quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni sicuramente nonno mi ha insegnato l'amore per tutti i personaggi che vengono raccontati e a provare empatia anche per ognuno di essi insieme io l'ho aiutato a scrivere l'autodifesa di Caino quindi insomma un personaggio particolare e poi la capacità fondamentalmente di buttare giù cioè nonno mi diceva buttiamo giù poi lo sistemiamo cioè quindi come gli veniva un'idea sentiva l'esigenza di scriverla e io questo l'ho utilizzato molto poi chiaramente lui non doveva sistemare nulla perché uscivano fuori già dei copolavori io dovevo invece sistemare però gli è stato comunque utilissimo senti è già uscito? è già uscito sì il 4 aprile quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni per mondatori però siccome io ti vedo un vulcano proprio questa è la mia prima esperienza la domanda è ne hai già un'altra che ti frulla in testa proprio per quello che ti diceva nonno buttare giù ho già scritto un altro romanzo perché quando io ho mandato se ne fai uno al mese stiamo a posto quando io ho mandato peperoni alle case editrici siccome non riuscivo a contenermi insomma questa attesa era per me veramente snervante ho scritto un altro romanzo per far passare più velocemente il tempo e ovviamente lo manderai anche quello anzi no credo che abbia già forse il copyright c'è chiaramente un ortaggio nel titolo ovviamente non ci puoi dire come l'hai chiamato sul file sul computer? Melanzane ma è meravigliosa Melanzane va bene io sono certa che Arianna avrà una bella strada è un gran successo te lo auguro perché proprio è traspare dai tuoi occhi e anche dalla passione che ci metti la storia di Arturo e della sua famiglia quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni e appunto come dice anche di Giovanni stare lì in una situazione certo di sofferenza di coma però avere l'opportunità di ascoltare quello che gli altri dicono di te o attorno a te o della tua famiglia secondo me in tanti andiamo a leggerci cosa potrebbe capitare grazie grazie Arianna Mortelliti e naturalmente in bocca al lupo grazie anche Crepi il cacciatore e qua si capisce perché andiamo d'accordo grazie a tutti Andrea Pancani Coffee Break noi ci rivediamo più là naturalmente poi sabato e domenica anche se Pasqua c'è Omnibus Ciao 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 Grazie a tutti.